Proseguono le indagini sull'omicidio di Alessio Cini, il 57enne tecnico tessile originario di Prato, separato e padre di una figlia adolescente, il cui corpo semicarbonizzato è stato trovato la mattina dell'8 gennaio davanti alla sua casa di Agliana, in provincia di Pistoia. Dall'esame autoptico è emerso che sulla testa e sul corpo c'erano traumi e lesioni che sono stati inferti prima dell'abbruciamento del cadavere. Secondo i medici legali, prima Alessio Cini è stato colpito alla testa e poi preso a calci e botte che hanno fratturato il torace mentre non poteva opporre più resistenza. L'assassino probabilmente aveva con sé del liquido infiammabile e un accendino con il quale ha piccato il fuoco alla vittima dopo averla tramortita. Gli inquirenti collocano l'aggressione mortale nelle primissime ore del mattino. Cini sembra che non avesse alcun appuntamento con il suo assassino ma che si fosse alzato presto per andare a lavorare come sempre. Qualcuno che conosceva bene le sue abitudini potrebbe, questa al momento è solo un'ipotesi, averlo atteso fuori dalla sua abitazione colpito con forza da dietro alla nuca con un corpo contundente facendolo cadere in avanti. Ipotesi che sarebbe confermata da una abrasione al ginocchio destro. Cini viene descritto come una persona per bene, non aveva precedenti penali. Svolgeva una professione di tecnico molto richiesta nel distretto tessile pratese. Dalle indagini però emergerebbe una preoccupazione recente legata alla perdita della casa, proprio quella di località ferruccia davanti alla quale è stato trovato ucciso. L'abitazione era finita all'asta dopo alcune vicende economiche che evidentemente non riusciva a fronteggiare. Per questo le indagini si sarebbero concentrate fin da subito anche sulla pista patrimoniale.